Tina Francese benvenuta a Castellabate, buonasera. Grazie. Tu anche tu non rinunci mai a questa gara, accetti ogni anno l'invito, buonasera appena arrivata anche Antonetta Dorsi, buonasera Antonetta Dorsi, accetti sempre l'invito che ci fa Nicola Polillo perché come non si può non venire qua a Castellabate, impossibile. E infatti come non si può non venire, questo è il terzo anno che vengo, un po' per la località turistica, un po' per il percorso che è tutto in salita, è sempre bello partecipare a questa gara e poi Nicola Polillo è un amico carissimo quindi non posso dire di no a lui. Infatti quest'anno ho visto che siamo in tanti, che siamo venuti, che sono venuti dal casertano, dal napoletano, che hanno fatto tanti, 200 chilometri solo per venire a questa diciottesima edizione della Marcia Longa di Castellabate perché merita Nicola, merita il posto e l'accoglienza di tutti i cidentani. E infatti è un piccolo borgo, diciamo questo, però ecco mentre appena ci si arriva sopra è tutto un applauso, tutto un incitamento, è bellissimo anche se il percorso è duro, non è che semplice, soprattutto io che in questo periodo sto preparando la maratona per me non è assolutamente facile, infatti io non dovevo farla questa gara, ho fatto giusto un piacere per stare qui però ecco il piacere è ripagato alla grande. E allora buona gara e bocca al lupo per la maratona che stai preparando. Grazie mille